Sì, è una salita molto impegnativa, breve, ma con le pendenze importanti. Per andare a prendere questa salita ci sono due belle rampe, ci saranno circa 3 km, molto impegnative, pendenze dal 10-12%, poi c'è un falso piano che tira leggermente in giù e poi c'è una curva sinistra secca e lì iniziano le rampe del Red Bulls. I primi 4 km sono veramente impegnativi, pendenze penso che vanno dal 10 con punte al 15 e gli ultimi 600 metri spiana e quasi falso piano. È una salita corta ma che fa male e sicuramente sarà decisiva anche per l'etapa di oggi. Oggi bene, ieri non è andata al meglio, però di sicuro ci riproviamo. È una salita dura, l'hanno presa forte, ho provato a tenere i primi ma poi ho pagato lo sforzo. Alla fine è il tantesimo, tantesimo, tanti ne avevo davanti.